Roberta Principe è direttrice artistica della compagnia teatrale putiolana Voulim Voulin e promotrice della seconda edizione, ricordiamo, della rassegna teatrale amatoriale tra mito e teatro. Ci vuole spiegare meglio in cosa consiste? Sì, la seconda edizione tra mito e teatro innanzitutto è una grande soddisfazione. Quest'anno ci hanno dato una mano sia le istituzioni ma anche e soprattutto l'associazione albergatori quindi anche per quanto riguarda l'ospitalità delle compagnie perché questo festival gode della presenza di compagnie amatoriali di tutta Italia. Ne sono state scelte solo cinque purtroppo ma le domande che sono arrivate sono arrivate dal Milano alla Sicilia quindi queste compagnie verranno ospitate a Pozzuoli e l'alloggeranno nelle strutture putiolane e dopo si esibiranno nel teatro Sant'Arte ma sotto l'omonima chiesa. Una rassegna nazionale quindi possiamo dire non solo flegrea che ha come titolo tra mito e teatro. Ci puoi spiegare perché questo titolo? Certo, il titolo è dovuto al fatto che le compagnie che vengono ospitate nella mattinata precedente alla messa in scena saranno accompagnate grazie alle visite guidate a cura dell'associazione Nemea saranno accompagnate in siti archeologici quindi in una visita guidata quindi vedranno i principali siti archeologici e dato che Pozzuoli si basa sul mito e quindi è la nostra principale ricchezza abbiamo dato questo nome perché è proprio tra il mito e il teatro che si articola. La serata conclusiva sarà a maggio con una vostra rappresentazione ci vuole ricordare le date più salienti di questa rassegna? Sì, le date sono molto semplici anche da ricordare perché sono sempre nel weekend e si articolano tra sabato e domenica quindi il primo appuntamento è quello del 7 aprile che è domenica alle 18.30 con una compagnia che viene da Iesi quindi dalla provincia di Ancona e porterà in scena classe di ferro dopodiché si prosegue con il 14 aprile e poi il primo sabato il 27 di aprile poi si va al 4 e 5 maggio che sono proprio sabato e domenica consecutivi dopodiché si va alla premiazione della serata conclusiva che è il 18 maggio dove ci sarà innanzitutto l'esibizione della compagnia Vulimmo Vulà poi ci sarà la premiazione innanzitutto di alcune associazioni perché quest'anno c'è un'importante novità rispetto all'anno scorso abbiamo coinvolto delle associazioni flegree per presentare e donare in qualche modo un loro racconto su Pozzuoli alle compagnie ospitate quindi ci sarà un pre-spettacolo di un quarto d'ora che racconta, c'è uno spettacolo che racconta per esempio l'evacuazione del rione Terra altri lo sbarco di Enea, altri la Sibilla eccetera quindi uno spazio abbastanza grande per raccontare al nostro modo Pozzuoli e le compagnie ospitate e poi alla fine dello spettacolo della compagnia ospitata verrà dato in omaggio un cd fotografico a cura di Angelo Greco di tutte le fotografie di Pozzuoli sia antiche che moderne quindi il 18 maggio ci sarà lo spettacolo della Vulimmo Vulà premiazione di queste associazioni e poi premiazione finale perché il festival è un concorso grazie a tutti